Conoscere da vicino la comunicazione, acquisirne le regole e i principi di base. Un mondo affascinante capace di incuriosire tanti giovani ai quali piacerebbe potersi cimentare un giorno con i nuovi media. Una mattinata proficua per i ragazzi della terza liceo linguistico dell'Istituto Superiore in Audi di Nuova Feltria, accompagnati dalla professoressa Carla Sabatini da Silvia Bugli, formatrice dell'ente CESCOT. Curiosi, emozionati e con mille domande, gli scolari hanno scoperto il mondo del piccolo schermo locale visitando la nostra sede. Da prima in redazione, per poi proseguire il percorso negli studi TV, i giovani hanno rivolto al nostro responsabile di redazione domande sul funzionamento della televisione. Molti quesiti sull'organizzazione di una struttura televisiva e tanti gli interrogativi riguardanti le modalità d'accesso e le capacità che servono per fare questo lavoro. Qual è lo scopo di questa visita? Lo scopo è quello di avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, quindi queste visite sono proprio organizzate perché i ragazzi vedano da dentro come funzionano queste, come la realtà rimunese. Quali sono, dal punto di vista di CESCOT, gli obiettivi prospettati nel lungo periodo? Sono visite che rientrano in un progetto più ampio di alternanza scuola-lavoro, quindi rivolte ai ragazzi delle scuole superiori e vogliono far riflettere i ragazzi su quelli che sono i valori e le cose importanti nella scelta di una futura professione. Soddisfatti gli studenti della terza liceo linguistico delle Naudi di Nova Feltria che, esprimendo un certo interesse, sono stati invitati a seguire le proprie attitudini e a raffinare le proprie abilità. Non è escluso che tra di loro si cieli un futuro giornalista esperto di comunicazione.